Cosa pensa dell'ipotesi di vaccinare dopo infermieri e medici e anziani, studenti e gli insegnanti per poter riaprire le scuole? Che sarebbe un'ottima idea, riuscendolo a fare sarebbe una cosa ottima insomma. Mi sembra che sia la soluzione più immediata e la reale soluzione. Non penso che ci sia molto da aggiungere, anche perché credo che un veicolo siano stati i propri giovani che hanno portato magari il virus in casa. Che sono più insieme per fare il contagio i bambini. Sicuramente la scuola ha dei pilastri importanti e quindi bisogna difendere sia i ragazzi che i professori. Da quello che ho capito i vaccini possono essere fatti dai 16 anni in su, per cui la fascia sarebbe un po' piccola. Chiaro che capisco l'esigenza per i genitori di mandare i propri figli alle superiori. Però anche molti genitori secondo me non farebbero fare il vaccino e il vaccino d'utenza sarebbe troppo ristretto. Ritengo che sia doveroso anche quello, però secondo me ci sarebbero delle categorie più urgenti da vaccinare prima dei ragazzi. Penso che tornare a scuola sia la cosa più importante, però allo stesso modo penso che bisogna vaccinare le persone con più alto rischio. Quindi non ho i dati sotto mano per dire chi ha più necessità di essere vaccinato. Quindi non mi pronuncio.